Ciao a tutti ragazzi, oggi con noi ci sarà Ambra. Ambra è una ragazza che fa la psicologa e più precisamente è una psicologa dello sport. In quanto psicologa dello sport, lavorando con atleti di tutta Italia, molto spesso si ritrova a fare videocollo, quindi consulenze tramite video. E il crucio qual era? Non saper che tipo di make-up realizzare, anche solo in 448, per essere presentabile. E questa sua richiesta mi ha fatto un pochino pensare. Oramai tutti noi, dato il periodo storico che stiamo vivendo, siamo sempre più proiettati a fare videoconferenze, riunioni tramite una videocamera di un computer o di un telefono. Ed è proprio per questo che ho pensato di farvi vedere su di lei un trucco abbastanza semplice, presentabile in camera, che vi permette anche solo in 5 minuti di essere appunto perfette per la vostra riunione. Detto questo, io come al solito vi farò l'elenco dei prodotti che ho utilizzato e poi vi lascerò guardare il video. I prodotti che ho utilizzato sono Bella Sveglia, Ristretto Concealer nella colorazione Light, il Correttore Minerale per fare un pochino di color correction nella colorazione Peach. Come fondotinta ho utilizzato il Flat Perfection nella colorazione Light Neutral. Come blush, Strawberry, Velvet Bronze come terra per andare un pochino a scaldare l'incarnato, Brow Model nella colorazione Lisboa. Per quanto riguarda gli occhi ho usato la palette Comfort Zone, la pastello occhi, Fili Cudi, Black Bubble come mascara e sulle labbra dal momento che è appena uscito il nostro ultimo limpino nella colorazione Victorian. Inizio idratando il contorno occhi con Bella Sveglia che vado ad applicare con il pennello Orange Concealer. In questo caso poi, dopo averlo applicato, lo vado leggermente a tamponare con un po' il pastello, bene sulla zona del contorno occhio. È il momento di utilizzare Ristretto Concealer, in questo caso nella colorazione Light, visto che ambra è molto chiara. Lo vado ad applicare con il pennello Rose Angled, sia nella zona dell'occhiaia, sia nella zona della palpebra e vado anche a ridurre i piccoli rossori che trovo. Come fondotinta vado ad applicare il Flat Perfection con il pennello Purple Flat. Lo vado ad applicare con movimenti circolari bene su tutto il viso. Ho scelto proprio questo tipo di fondotinta perché è molto pratico e veloce da applicare la mattina. Faccio un po' di color correction con il correttore minerale Peach, andando ad utilizzare il pennello Sky Corrector. L'occhiaia blu astra è tipica di chi sta molte ore davanti a un monitor. Riempio le sopracciglia di ambra con il Brow Model, andandole a pettinare seguendo perfettamente quella che è la sua arcata sopraccigliare. Adesso potete vedere la differenza tra una sopracciglia fatta e l'altra no. Come primo colore della Comfort Zone utilizzo Earl Grey. Lo vado ad applicare tra la fine della palpebra mobile e l'inizio della palpebra fissa, sfumando bene con il pennello Azalea Cris. Dopodiché vado a prendere la Pastello Occhi Filicudi, ben temperata mi raccomando, che vado ad applicare nella zona della rima cigliare superiore. Munita di Pink Definer, inizio a sfumare piano piano la nostra Pastello verso l'esterno, quasi da creare una sorta di eyeliner. La linea dell'eyeliner non deve essere assolutamente grafica ed è per questo che usando di nuovo la Azalea Cris la vado a sfumare. Adesso è il turno di espresso che vado a prelevare con il Pink Definer. Lo vado ad applicare sopra Filicudi per andare a intensificare appunto il colore. La cosa importante è che, come dicevo prima, non volendo fare nulla di troppo grafico, lo vado nuovamente a sfumare con la Azalea Cris. Prelevo Filicudi con il Pink Definer direttamente dalla mina e lo vado ad applicare nella rima cigliare inferiore proprio tra le ciglia. Vado a incorniciare l'occhio senza andare troppo ad appesantirlo. Nella rima cigliare inferiore eseguo gli stessi passaggi che ho effettuato nella palpebra superiore, prelevando espresso prima con il Pink Definer e poi andandolo a sfumare con la Azalea Cris. Con un polpastrello prelevo Mezzestate e lo vado ad applicare proprio al centro della palpebra mobile in modo da dare luce al nostro make-up. Con l'Emeral Shader prelevo Plastic, lo stendo sotto l'arcata sopraccigliare per illuminarla e nella codina del nostro make-up per definirlo ancora meglio. Immancabile Black Bubble per dare intensità e volume alle nostre ciglia da applicare sia sopra che nelle ciglia inferiori. Dono un po' di colore con il blush Strawberry andandolo ad applicare con il Crystal Diffuse. Per scaldare l'incarnato invece vado ad usare Velvet Bronze che vado ad applicare con il pennello Mint Tapered. Adesso è il turno del lippino Victorian. Ho pensato di farvelo vedere messo in tre modalità diverse. Prima con il polpastrello per dare giusto quell'effetto di labbra un pochino colorate. Come potete vedere il colore è appena accennato. Se no lo possiamo applicare con il Green Detail. Ci permette di lavorare meglio il prodotto, stenderlo bene su tutta la superficie delle labbra. Ma come potete vedere il colore non è super intenso. Sempre per chi vuole qualcosa di un po' più nude. Qui infatti abbiamo colore idratazione ma non intensità. Invece per sfruttare al meglio la colorazione meravigliosa di Victorian vi consiglio di applicarlo direttamente sulle labbra. E voilà questo è il risultato finale di labbra al bacio e perfette in video per la vostra riunione o video call. Ragazze spero che il make up vi sia piaciuto. Come al solito fateci sapere che cosa ne pensate. Se avete dubbi scriveteci e come al solito vi mando un bacione.